E' stato siglato a Napoli, nelle sale ottocentesche di Villa Pignatelli, un patto per il Sud da parte di cinque governatori Vincenzo De Luca, Campania, Nello Musumeci, Sicilia, Mario Oliverio, Calabria, Marcello Pittella, Basilicata e Donato Toma, Molise In collegamento anche Michele Emiliano, dalla Puglia Si tratta di un accordo politico per tutelare al meglio gli interessi del Sud attraverso una grande battaglia comune per il mezzogiorno La proposta è stata avanzata da parte del governatore Campano Vincenzo De Luca La presenza di tutti i presidenti delle regioni del Sud chiamati a raccolta a Napoli è servita per verificare la possibilità di varare politiche economiche comuni all'interno di un accordo politico L'idea di De Luca è quella di creare provvedimenti shock per dare speranza ai giovani come un grande piano per il lavoro Ma serve anche che le regioni meridionali mettano da parte i distinguo per andare uniti alla battaglia ai tavoli in cui si decidono i giochi È indispensabile fare una battaglia per il Sud, ha detto, per difendere i nostri interessi Trovando un accordo politico tra noi nei giorni in cui nasce il nuovo governo Perché quando si tratta di trovare le risorse il Nord è compatto, senza distinzioni di destra e sinistra, il Sud invece no Dobbiamo imparare, è l'appello che il governatore Campano rivolge ai colleghi, a fare lobby in maniera positiva per tutelare le nostre comunità Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha aggiunto Questo progetto del lavoro deve essere portato al tavolo nazionale La partita si vince se creiamo un polo al di là delle appartenenze politiche Quanto al partito dei governatori, Musumeci non si è tirato indietro Se ne avverte l'esigenza, ha spiegato, non vedrei di cattivo occhio una forza politica capace di rappresentare le istanze del mezzogiorno Non in termini di sciocca di vendicazione Lo dico davanti ai colleghi del centro-sinistra In Italia c'è l'esigenza di dover scomporre e ricomporre l'area del centro-destra Sarà inevitabile e fisiologico E noi dobbiamo dare agli emarginati e non garantiti del Sud l'idea di rappresentarli attraverso un progetto sano e concreto In questa scomposizione del quadro politico italiano, in cui inserisco anche il centro-sinistra C'è la possibilità di rappresentare le istanze del Sud, che sono diverse da quelle del settentrione Anche per vocazione, del resto noi guardiamo al Mediterraneo e loro al Baltico Certo, una forza politica non nasce da oggi a domani, ha concluso Musumeci Ma anche dai risultati elettorali emerge questa esigenza Se ci vedremo tra qualche mese, forse avremo qualche idea in più